Buongiorno ai telespettatori del CIE, benvenuti a un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Iniziamo subito a vedere come titolano stamattina i giornali. Partiamo come sempre dalla Repubblica, in primo piano il dietrofront sui clandestini, dunque resterà il reato, titolo a tutta pagina la Repubblica, Alfano frena il governo, scelta inopportuna. Renzi pensa intanto ad una nuova legge ad hoc. E poi, sempre dalla prima pagina, una notizia che riguarda l'economia, bene redditi e deficit, Padoan all'Unione Europea, sì alla flessibilità. Eccola questa fotonotizia, attacco al resort con la bandiera IS, uccisi due terroristi sul Mar Rosso. La polizia davanti al resort è attaccato ieri a Urgada, in Egitto. Questo dunque il titolo a tutta pagina. Altre notizie le vediamo insieme. Una riguarda i rifugiati, notte di violenza alle donne, 32 fermi, cade il capo della polizia di Colonia. E ancora l'inchiesta che riguarda il blitz della finanza, Banca Etruria, conflitto di interessi sui prestiti. E ancora minacciato di morte dalle guardie, il più pubblico ministero, è solo una lezione di carcere. L'inchiesta all'archiviazione delle accuse. Questi dunque i titoli in primo piano questa mattina sulla Repubblica. Andiamo invece adesso a vedere come titola il fatto quotidiano in primo piano. Lo vediamo insieme. Il titolo che riguarda Rolex e regali. Il Papa li dà in beneficenza. Renzi invece se li tiene imbarazzi e conferme a palazzo sull'inchiesta del fatto. Un decreto di Prodi vieta ai membri del governo di tenere omaggi di valore superiore a 300 euro. Ma il premier conserva tutto. Anche la bici donatagli dai giapponesi. Francesco invece regala ai poveri orologi di lusso e automobili. E ancora in primo piano stamattina sul fatto quotidiano. Il crack Etruria. Perquisizioni in 14 società. Blitz nelle scorse ore della Guardia di Finanza. Ancora Family Day. Siamo al 22esimo posto in Europa per aiuti alle famiglie. Chi sfila per le coppie tradizionali non fa mai nulla per sostenerle. Asili pubblici solo per il 12% dei bambini. Appena 8,5 bebè ogni 1000 abitanti. Il 22,3% delle donne incinte perde il lavoro. E ancora riporta stamattina il fatto quotidiano. Le adozioni internazionali si sono dimezzate negli ultimi 10 anni. Così dunque riporta stamattina in primo piano. Un altro articolo riguarda l'arrivo dei metal detector all'ingresso dell'assemblea siciliana. Rivolta e panico fra i consiglieri di ogni colore. Qualcosa da dichiarare? Così dunque in primo piano stamattina sul fatto quotidiano. Adesso andiamo a vedere quali sono i principali argomenti che riguardano invece la nostra regione. Partiamo dalla prima pagina del quotidiano del sud. In primo piano si parla del bimbo neonato morto a Vibo Valencia. Tre indagati per il bimbo mai nato. Sotto inchiesta due ginecologi e un medico del pronto soccorso. Oggi l'autopsia accusati di procurato aborto per la morte in grembo negli ultimi giorni di gravidanza. Bimbo morto nel grembo della mamma negli ultimi giorni di gravidanza. Tre medici dunque sotto inchiesta all'ospedale di Vibo Valencia. E poi un altro caso di cronaca che arriva da Catanzaro. Parliamo di Beatrice che non sarebbe morta a causa della meningite. Dunque la giovane di Catanzaro che è morta dopo alcune ore di febbre alta. Sempre dalla prima pagina del quotidiano del sud. Una notizia che arriva da Mileto riguarda i reperti. I reperti tornino al museo statale di Mileto. Così riporta il titolo a tutta pagina questa mattina. E ancora la politica. Partito Democratico l'esito delle comunali avrà effetti sulla regione. L'idea di Minniti e Guccione gela la sala. Cosa in sé crotone. I punti più delicati. Magorno incontra l'ex del Movimento 5 Stelle Barbanti. Andiamo avanti. La cronaca da Rosarno. Perquisizioni e denunce. Qualcosa si muove per stanare il caporalato blitz all'alba della prefettura. Un'altra storia riportata in primo piano questa mattina riguarda gli ultra rivali. Ora il coro è devi guarire. Tifosi del Catanzaro fanno vista in clinica a un sostenitore storico del Cosenza. Una bella pagina di sport e di solidarietà dopo un delicato intervento chirurgico. Da Petiglia Policastro. Frane la sfida del sindaco alla regione. Dica che non c'è pericolo. Dice il primo cittadino. Rivolgendosi dunque alla regione Calabria. I rappresentanti politici. Adesso andiamo a vedere quali sono i principali argomenti in apertura stamattina sul garantista. Eccolo il titolo a tutta pagina. Candidati a sindaco. Ancora niente nomi ma la strategia c'è. Il Partito Democratico si prepara alle amministrative di Cosenza e Crotone e punta su alleanze ampie. Non si sono fatti nomi ma è stato tracciato il percorso che dovrà portare il PD a recitare un ruolo di primo piano in occasione delle elezioni amministrative si punta tutto sulle alleanze. E parliamo della lotta al caporalato. Perché ieri c'è stato un blitz. Lo vediamo in questa foto notizia. Denunce e controlli. Ora i lavoratori immigrati sono più tranquilli. Così riporta tutta pagina. Stamattina il garantista. Ancora dalla prima edilizia sociale gentile ripristinò la legalità. Arriva la sentenza che ribalta completamente l'orientamento del TAR. Secondo i giudici della quinta sezione l'ex assessore ai lavori pubblici fece bene ad annullare il primo bando. Adesso l'intervento di Dalila Nesci del Movimento 5 Stelle. Giornalisti non pagati. La Nesci in questo caso finirà in Parlamento. Porterò il caso in Parlamento. E la promessa della parlamentare calabresa del Movimento 5 Stelle è Dalila Nesci che preannuncia la volontà di chiedere l'UMI e lo stesso Luca Lotti sul perché i giornalisti del garantista siano rimasti senza stipendi. E sempre dalla prima il presunto caso di malasanità che arriva da Vibo Valencia. Altro caso allo Iazzolino. Si domanda l'articolo che riguarda la morte di un feto avvenuto proprio nelle scorse ore. Ancora dalla prima altri articoli. Uno riguarda la nuova legge urbanistica al via l'atteso confronto. E poi un'altra notizia che arriva da Cutro. Taglio dei fondi per l'A3 Salerno-Reggio Calabria. Nicolò parla di vera debacle. Si aggiunge anche il presidente del gruppo consigliare regionale di Forza Italia, Alessandro Nicolò, ha ormai consistente coro di proteste per i tagli ai finanziamenti per il completamento dell'A3 Salerno-Reggio Calabria e la statale Ionica 106. Una deblac per lo Stato denuncia. Da Catanzaro, piano trasporti, le linee guida sono approvate. La Giunta regionale ha dunque approvato le linee di indirizzo per lo sviluppo del piano regionale trasporti, demandando all'assessore russo l'adozione dell'iniziativa necessaria all'avvio delle procedure per l'aggiornamento, l'integrazione e il completamento del piano regionale dei trasporti. Dunque questi i titoli a tutta pagina stamattina sul garantista. Adesso andiamo a vedere l'apertura riservata stamattina dal crotonese. Ecco, si parla di vallone sull'orlo di una crisi di nervi. Le fantasie sul patto fanno perdere le staffe al primo cittadino della città pitagorica. A Peppino sono saltati i nervi. Se è vero, come egli stesso promette, che in questi dieci anni non ha mai replicato un articolo di stampa, allora è evidente che l'ultimo lo ha decisamente turbato. Nella sua replica a Omnibus afferma che il giornale si è rivolto a Walt Disney per scrivere l'articolo essendo il titolo più giusto fantasia. Questa dunque la dichiarazione del sindaco di Crotone, Peppino Vallone. Ancora, si parla di cibi ai poveri, non ai cassonetti. La campagna Anteas che dichiara lo stop agli sprechi. E ancora, per l'aeroporto è l'ora della verità. Passeggeri in crescita, ma Ryanair riduce il numero dei voli. Ancora un'altra notizia che riguarda lo stadio. Pronti a installare 1800 seggiolini pulite le vetrate, ma il sogno è quello di eliminarle. Questi dunque i principali articoli riportati stamattina sul Crotonese. Bene, prima di andare avanti e di approfondire le pagine interne, come sempre ci fermiamo per dare spazio alla nostra rubrica Accadde Oggi. 9 gennaio 1878 muore Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d'Italia. Insieme al primo ministro Camillo Benso Conte di Cavour, Vittorio Emanuele II porta a termine il risorgimento e il processo di unificazione italiana. Al padre della patria succede Umberto I di Savoia, che sarà ucciso a Monza il 29 luglio 1900 dall'anarchico Gaetano Bresci. Andiamo dunque ad approfondire le pagine interne dei quotidiani. Partiamo dal quotidiano del Sud. In primo piano la notizia che riguarda la lotta al caporalato. Il caporalato è sotto torchio, così il titolo a tutta pagina. Due denunciati e 73 perquisizioni sono stati impiegati 50 uomini dello Stato. La prefettura di Reggio Calabria in azione a difesa della dignità dei lavoratori immigrati nella Piana. Il prefetto San Martino dice individuare flussi e dinamiche. E' così dunque nell'incontro in prefettura, incontro che si è svolto proprio ieri a Rosarno. Concetto ribadito appunto dal prefetto San Martino e i vertici delle forze dell'ordine nel corso di un incontro. Per noi Francesco Creazzo. Lo Stato è presente a Rosarno e nella tendopoli di San Ferdinando. E' il prefetto accompagnato dal questore e dai comandanti provinciali dei carabinieri e delle fiamme gialle a tentare di lenire la tensione che in questi giorni si respira nei centri della Piana di Gioia Tauro. Voci che si rincorrono, passaparola che raccontano di aggressioni ai danni dei lavoratori africani con spranghe e catene di rivolte sedate, di posti di blocco e ronde organizzate dalla gioventù locale. Secondo le istituzioni riunite nel palazzo del governo di Reggio Calabria, nulla di più falso. Sì, i migranti hanno denunciato quattro aggressioni che sono in corso di accertamento. Sì, c'è stato un incidente automobilistico tra un immigrato e un calabrese. Ma nulla di preoccupante. Anche se le condizioni della tendopoli di San Ferdinando sono ancora pessime. Anche se i migranti lavorano ancora 12 ore al giorno per una paga di 20 euro. In questi giorni la volontà di agire sui due livelli. Primo livello interventi di emergenza umanitari. Il secondo livello intervento di integrazione e di accoglienza trovando gli strumenti amministrativi, legislativi utili per favorire la integrazione e l'accoglienza di questi lavoratori nell'ambito del territorio della Piana di Gioia Tauro. Il messaggio è importante per tutti i cittadini. C'è una forte cornice di sicurezza a garanzia dei diritti e delle aspettative di ciascuno. Sul caporlato e sulle condizioni degli immigrati che vivono nelle tendopoli della Piana di Gioia Tauro interviene questa mattina anche Flora Sculco, la consigliera regionale, che dice che non si possono lasciare da soli. La CGL intanto dare un sostegno concreto e costante a questa gente, così la proposta del sindacato, le parole del presidente Oliverio per la situazione che ha trovato a Rosarno nel corso della sua visita suscitano allarme, emozioni inducono nel contempo a chiedere in quei luoghi in cui sulla pelle dei migranti si consumano ingiustizie di ogni tipo e può accadere ogni genere di offesa alla dignità umana. Lo Stato si faccia sentire. Così dunque Flora Sculco, la consigliera regionale. Ancora sulla tendopoli di San Ferdinando, riunione operativa di Oliverio per fronteggiare l'emergenza. Adesso andiamo avanti, cambiamo argomento. In primo piano stamattina la morte dell'effetto, indagati tre medici dello Iazzolino di Vibo Valencia. Questa mattina intanto in programma l'autopsia. La famiglia si affida ad un consulente, due ginecologi ed un medico del pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valencia accusati di procurato aborto. E ancora la versione, la leggiamo insieme, dell'azienda sanitaria di Vibo Valencia che parla dell'esito dell'ecografia regolare. Il management ha istituito intanto una commissione di inchiesta interna e lunedì arriverà l'organismo sul rischio sanitario. Un altro articolo riguarda gli emigrati al nord per lavoro. Il ritorno è stato tragico. L'avvocato currà, questi ragazzi devono sapere perché non sono diventati genitori. Dunque continuiamo a parlare di questo argomento della morte del feto. In particolare parla l'avvocato dei genitori di questo piccolo. In realtà non è mai nato perché è morto. Andiamo avanti. Mistero sulla morte di Beatrice. Un altro caso di cronaca che arriva da Catanzaro. Tra i conoscenti si diffonde la psicosi di un possibile contagio nel pomeriggio a San Pietro Magisano ai funerali della 27enne catanzarese. L'autopsia effettuata escluderebbe comunque che sia stata una meningite a uccidere la giovane che vediamo in basso nelle foto. 27 anni morta dopo una febbre molto alta. Ma andiamo a vedere i dettagli nel servizio realizzato della nostra redazione. Morire dopo 12 ore di febbre alta accompagnata da atroci sofferenze, tra familiari attoniti e prescrizione di farmaci da banco come il paracetamolo. E' morta così Beatrice Tallarico, giovane ragazza di San Pietro Magisano nel Catanzarese, per cui la vita, fino a poco prima, era scorsa tranquilla. Una serata con gli amici di sempre, poi il risveglio, il giorno dell'epifania, in preda ad una febbre molto alta, forte fastidio alla luce, vomito e disturbi intestinali. Verso le 17 del pomeriggio, l'arrivo dei primi sanitari del 118 che le avrebbero diagnosticato una gastroenterite, prescrivendole paracetamolo ed un farmaco per contenere il disturbo gastrico. Ma a distanza di poche ore le cose precipitano, la ragazza sviene ripetutamente, nel mezzo, secondo le testimonianze di chi era sul posto, un rimbalzo di competenze tra medico di guardia e 118. Alla fine il trasferimento di corsa al Pugliese Ciaccio, l'inizio delle visite e dei prelievi e dopo poco più di un'ora la morte. L'ipotesi ora più accreditata, ma che sarà l'autopsia a decretare, è quella che Beatrice sia stata colpita da una meningite fulminante che l'ha divorata in meno di 12 ore. E così, mentre a tutti coloro che hanno avuto contatti con lei è stato prescritto un antibiotico come profilassi preventiva, rimangono i dubbi. Ci sono state negligenze? Beatrice poteva essere salvata? E ancora, si può morire così nel 2016, corrosi e portati alla morte in poche ore senza che la medicina riesca a venirne a capo ed intervenire? Cambiamo argomento. Sempre dalle pagine interne del Quotidiano del Sud si parla di edilizia sociale, il bando andava annullato, così il titolo a tutta pagina. Gentile, ex assessore regionale, all'epoca appunto assessore, aveva bloccato le assegnazioni per un nuovo avviso. Il Consiglio di Stato, ribalta la decisione del Tar, resta l'inchiesta di Catanzaro per il legale, doveroso, cancellare tutto. E poi parliamo delle trivelle. Accolto un solo quesito, per la prossima settimana è attesa la decisione della Corte Costituzionale, la Cassazione lascia in piedi solo il passaggio sulle estrazioni entro le 12 miglia. E ancora, da Catanzaro, borse lavoro per velocizzare gli uffici giudiziari, lunedì la firma del protocollo tra Regione e Corte d'Appello. Continuiamo a sfogliare il giornale, ecco la politica, il PD si gioca tutto alle comunali, a Magorno ha affidato l'incarico di sondare il terreno per le elezioni. Entro 15 giorni, Crotone e Cosenza, i punti caldi, in caso di sconfitta anche in Regione, sarà rimpasto. A margine, breve riunione con Barbanti, ancora Minniti, chiede la firma al patto per la Calabria. Una notizia adesso che riguarda le infrastrutture. Vediamo, a 3 è stata le 106, l'ANAS, i finanziamenti sono aumentati. E ancora, dalla Regione, Consiglio sulla Sanità, IRTO, convoca i capigruppo, il 12 la riunione preliminare, per stabilire la data dell'assemblea straordinaria. Continuiamo a sfogliare il quotidiano del Sud, andiamo a Petiglia Policastro, non avrò morti sulla coscienza, il virgolettato a tutta pagina, e l'appello del sindaco Nicolazzi a Regione, governo sul dissesto idrogeologico, che ha colpito appunto il comune di Petiglia, la protezione civile, il comune e la provincia inadempienti. E ancora, da San Giorgio Albanese, l'autopsia conferma morto per un trauma cranico, oggi i funerali del sedicenne è caduto, da un balcone in circostanze. Ancora tutte da chiarire. Agricoltura traino dell'economia, dunque da Catanzaro, incontro con gli istituti tecnici per la fiera dell'innovazione che si terrà a Verona, il settore in primo piano, nella pianificazione strategica regionale. Grande apporto da parte delle scuole che hanno partecipato all'incontro catanzarese. E ancora, da Reggio Calabria, due ragazzi morti sulla statale 106. Altre due persone ferite. I vigili del fuoco salvano la compagna di una delle vittime frontale tra auto. Uno è deceduto sul colpo, il secondo invece è finito in ospedale. Finito in ospedale, è morto subito dopo. E ancora, torniamo a parlare di Carlo Iannuzzi. La comunità italiana in Argentina raccoglie i fondi per il giovane. Il costo delle cure ammonterebbe in totale 340 mila euro. Il giovane, come si ricorderà, è stato vittima di un tentativo di rapine, è stato colpito da alcuni balordi mentre si trovava a Buenos Aires. Sempre da Catanzaro, vediamo un'altra notizia che riguarda la visita di alcuni ultraggi allorossi al rivale Cosentino Operato. La solidarietà supera la fede calcistica. Così titola stamattina il quotidiano del Sud. E ancora la cronaca da Acquaro. Nel Vibonese, i ladri entrano in casa e rubano solo un comò antico. Non quantificato il valore dell'oggetto, la casa di proprietà di una famiglia residente al nord. Ancora, società e salute, in primo piano si parla delle morti materne. Ecco perché si può fare di più. Da rivedere in Calabria, strutture e modelli organizzative. Così titola l'articolo a più specialisti per contenere i rischi. Adesso andiamo a sfogliare le pagine interne del garantista. Eccolo in primo piano. La notizia che riguarda in particolare la sentenza del Consiglio di Stato che da ragione a Gentile è ribaltato l'orientamento precedente espresso dal Tar. Secondo i giudici della quinta sezione, l'ex assessore regionale ai lavori pubblici annullando il bando sull'edilizia sociale, ripristinò la legalità di sesto idrogeologico comune devastato dalle frane. Il sindaco minaccia le dimissioni, i progetti per il risanamento sono pronti da diverso tempo ma non vengono finanziati. Il primo cittadino di Petile a Policastro nel crotonese, Nicolazzi, pronto a lasciare. Non voglio avere morti, dice sulla coscienza. E ancora, altre notizie. Uno riguarda la lotta al caporalato. Due le denunce. Nel milino quattro ditte agricole nella piana di Gioia Tauro effettuati più di 70 perquisizioni. Dunque lotta al lavoro nero. Nei controlli c'era parvenza nei contratti. C'era parvenza di legalità. L'assunzione era regolare ma le ore di lavoro erano però raddoppiate. e ancora il presunto caso di malassanità. Aveva dolori, i medici la mandano a casa. Dopo giorni il feto muore. La donna si era presentata in ospedale il 26 dicembre. Ieri mattina è tornata ma è stato riscontrato il decesso del bimbo che portava in grembo. La procura ha aperto un'inchiesta. Tre i medici indagati. Ancora cronaca con un lennesimo scontro sulla statale 106. Scontro tra auto deceduti. Due giovani. L'incidente è avvenuto nel territorio di Reggio Calabria. Continuiamo a sfogliare il garantista. Eccolo la politica ancora in primo piano con il vertice del Partito Democratico. Sindaci per ora niente nomi. Oliverio incontrerà il 13 il ministro Lorenzini per ridiscutere il piano. L'ex Movimento 5 Stelle Barbanti in avvicinamento. E poi un appuntamento che riguarda le borse lavoro. Lunedì si firma il protocollo per supportare il sistema giudiziario regionale. Saranno utilizzate in particolare mille unità per 24 mesi per aiutare l'evasione dell'arretrato civile e penale. E ancora, sempre dal garantista, una debacle gestionale per lo Stato. Dunque si parla in particolare del taglio e finanziamenti sulla tre e sulla statale Ionica. Interviene Nicolò di Forza Italia. Una mortificazione, dice, per i calabresi stanchi di essere trattati come sudditi e non come cittadini. Così dunque riporta in primo piano il garantista. E ancora, torniamo a parlare del baraccopoli degli immigrati di Rosarno. Oliverio presiede una riunione operativa e chiede un intervento diretto di Alfano, Sculco, Calabria in rete. Lo Stato si faccia sentire e non lascia i soli regione e chiesa. Così dunque riporta stamattina il garantista. Bene, e adesso come ogni mattinacci colleghiamo con il nostro meteorologo, l'ingegnere Ugo Notaro. Andiamo a vedere le previsioni del tempo, poi una breve pausa pubblicitaria. La rassegna stampa torna subito dopo. Io vi aspetto. Amici, una giornata di sabato con una nuova perturbazione che attraverserà l'Italia simile a quella dei giorni scorsi da nord verso sud. Arriverà al meridione nel corso della serata di sabato. La situazione che ci accengiamo ad affrontare varrà anche per i prossimi giorni ha il sapore prevalentemente autunnale, ma poco invernale. D'altro canto vediamo bene la nostra penisola colorata di un giallo-arancione con la Calabria e la Sicilia ben evidenziata nella parte bassa dello schermo in una condizione che non è di sapore invernale. D'altro canto le valori termici che ce ne andranno in questo weekend vedranno per la Calabria le temperature che si attesteranno sulle massime di 14-15 gradi e le minime a livello del mare di poco superiori ai 10 gradi. Sono valori non invernali ma valori dal sapore autunnale. E arriveranno le piogge, lo dicevo, nel corso della giornata di sabato nel pomeriggio sera sulla Calabria ma mancherà il freddo che probabilmente arriverà sul meridione d'Italia non prima della giornata di martedì. Rivedremo la neve in sila sia pure temporaneamente. Uno sguardo d'insieme alla nostra penisola ci porta a dire che il maltempo interesserà dapprima il settentrione d'Italia portandosi poi nel corso della giornata a discendere insistendo sul centro d'Italia nel corso della giornata di sabato per poi arrivare in serata sul meridione. Un maltempo che porterà precipitazioni di stampo temporalesco neve oltre 2000 metri dapprima sul nord ovest e poi sul restante settore della pianura padana fino alle Dolomiti. Centro d'Italia con ancora precipitazioni più intense sul settore tirrenico interesseranno anche i rilievi e tutto il cordone della dorsale appenninica con nevicate soltanto sulle cime più alte. La giornata di sabato vedrà la prima parte con degli annuvolamenti diciamo giornate di tipo nuvoloso nella mattinata sulla dorsale appenninica Tireno-Cosentino Vibonese Catanzarese Lametino che vedranno sul settore occidentale aumentare la copertura nuvolosa con delle precipitazioni che arriveranno sul meridione d'Italia e sulla Calabria nel corso della seconda parte della giornata di sabato insisteranno poi nella nottata sul domenica essere interessati da questa situazione di maltempo tutta la Calabria centrosentrionale quindi territorio della provincia Cosentina Catanzarese Vibonese migliore la situazione sia sul regino che sulla dorsale ionica dal crotonese fino al Catanzarese Golfo di Squilaci una giornata domenicale con temperature oltre la media del periodo di 5-6 gradi ecco perché parlo di una situazione di stampo più autunnale che di tipo pienamente invernale manca il freddo e le minime sono oltre i 10 gradi lungo i settori costieri in montagna non si va sotto i 4-5 gradi quindi è una situazione che non porta il freddo d'altro canto le perturbazioni che portano la pioggia sono di natura atlantica e non arrivano dal nordese dai Balcani situazione che porta la neve sui rilievi a conte colinari in Calabria ma non è questa la situazione per oggi è tutto un saluto da Gono Daro per gli amici di La C Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia la sua la sua è l'allia di la sua l'allia di